Il caso Dreyfus, Zola Il capitano Dreyfus viene condannato da un tribunale militare per alto tradimento. Da quel momento diventa il traditore, non più un uomo ma un'astrazione, colui che incarna l'idea della patria sgozzata, venduta al nemico vincitore. Non si tratta solo di un tradimento presente e futuro, rappresenta pure il tradimento passato, poiché a lui si ascrive l'antica sconfitta, l'ostinata convinzione che solo il tradimento abbia potuto far sì che fossimo battuti. Ecco quindi l'anima nera, il personaggio abominevole, la vergogna dell'esercito, il bandito che vende i fratelli, proprio come Giuda ha venduto il suo Dio. E trattandosi di un ebreo è semplicissimo. Gli ebrei, che sono ricchi e potenti e senza patria, del resto, lavoreranno sott'acqua con i loro milioni per toglierlo dai guai. Compreranno le coscienze e tesseranno attorno alla Franza un complotto esecrabile, pur di ottenere la riabilitazione del colpevole, pronti a sostituirgli un innocente. Esolà, schierandosi con gli innocentisti, denunciò il complotto militarista e razionario contro gli ebrei e fu condannato per questo ad un anno di carcere. Fuggì e riparò in Inghilterra. Qui i suoi interventi sulle Figaro e i famosi opuscoli da lui distribuiti per sollecitare la Franza a prendere coscienza dei suoi gravi errori e dei suoi squilibrati cenni antisemita. Memorabile anche la sua lettera alla gioventù. Gioventù, gioventù. Sì, sempre dalla parte giusta. Per gli ebrei Le Figaro, il 16 maggio 1896, da qualche anno, seguo la campagna che si tenta di montare in Franza contro gli ebrei con un senso crescente di sorprese e di disgusto, a tutta l'aria di una mostruosità. Voglio dire di una cosa completamente al di là del buonsenso, della verità e della giustizia, di una cosa stupida e cieca che potrebbe farci arretrare di secoli, una cosa, insomma, che potrebbe sfociare nel peggiore degli abomini, una persecuzione religiosa che inseguinerebbe tutte le patrie. E lo voglio dire. Per cominciare, quale processo viene istruito contro gli ebrei? Che cosa gli si rimprovera? Alcuni, perfino tra i miei amici, dicono di non poterli soffrire, di non poter dar loro la mano senza provare un brivido di ripugnanza. È l'orrore fisico, la repulsione tra razza e razza, del bianco per il giallo, del rosso per il nero. Non mi chiedo se in questa ripugnanza non entri l'antica collera del cristiano verso il giudeo che ha crocefisso il suo dio, un atavismo secolare di disprezzo e di vendetta. Insomma, l'orrore fisico è una buona ragione, anzi la sola, da che non si sa che cosa rispondere a chi ti dice li esecro perché li esecro, perché alla sola vista del loro naso vado fuori di me, perché la mia carne si ribella nel sentirli diversi e contrari. In verità, questa ostilità tra razza e razza non è una ragione sufficiente. Ritorniamo alle caverne. Allora, ricominciamo la barbara guerra tra specie e specie, divoriamoci per il solo fatto di non lanciare lo stesso richiamo o di avere il pelo diverso. Lo sforzo delle civiltà è proprio quello di cancellare questo bisogno selvaggio di settarsi sul proprio simile quando non è del tutto simile. Nel corso dei secoli, la storia dei popoli non è altro che una lezione di tolleranza reciproca, tant'è vero che il sogno finale sarà di ricondurli tutti alla fratellanza universale, di sommergerli in una comune tenerezza, perché tutti, per quanto è possibile, siano salvi dal comune dolore. E ai nostri giorni odiarsi e azzannarsi solo perché qualcuno non ha il cranio costruito proprio nello stesso modo rischia di essere la più mostruosa delle follie. Arrivo al processo serio che è soprattutto d'ordine sociale e ne riassumo la requisitoria, la indico a grandi linee. Gli ebrei sono accusati di essere una nazione nella nazione, di condurre in disparte una vita di casta religiosa e di essere dunque al di sopra delle frontiere una sorta di setta internazionale, senza una vera patria, capace un giorno, qualora trionfasse, di mettere le mani sul mondo. Gli ebrei si sposano tra loro, conservano strettissimi legami di famiglia, in mezzo alla moderna l'ilassatezza si sostengono e si incoraggiano, mostrano nel loro isolamento una straordinaria forza di resistenza e di lenta conquista, ma soprattutto sono pratici avveduti per natura e portano nel sangue un bisogno di lucro, un amore per il denaro, un così prodigioso senso degli affari che in meno di cento anni hanno accumulato nelle loro mani fortune enormi e che sembrano assicurare la loro regalità in un'epoca in cui il denaro è re. Ed è vero, verissimo, però, una volta constatato il fatto, occorre spiegarlo. Ciò che bisognerebbe aggiungere è che gli ebrei, così come sono oggi, sono opera nostra, l'opera dei nostri 1800 anni di imbecille persecuzione. Li abbiamo rinchiusi dentro quartieri infami come lebrosi e ci meravigliamo che abbiano vissuto appartati, conservando tutte le loro tradizioni, stringendo i legami familiari, vivendo da vinti in casa dei vincitori. Li abbiamo schiaffeggiati, ingiuriati, colmati di ingiustizia e di violenze. Niente di strano, perciò, se in fondo al cuore, magari inconsapevolmente, hanno conservato la speranza di una lontana rivincita, la volontà di resistere, di tirare avanti e di vincere. Soprattutto abbiamo sdegnosamente lasciato nelle loro mani il dominio del denaro, che noi disprezzavamo, facendone socialmente dei trafficanti e degli usurai. E dunque, perché meravigliarsi, se quando il regime della forza bruta ha lasciato il posto a quello dell'intelligenza e del lavoro, li abbiamo trovati padroni di capitali, la mente agile, esercitata da secoli di ereditarietà, pronti per l'impero. Ed ecco che oggi, atterriti davanti a questa opera di accecamento, spaventati nel constatare ciò che la fede settaria del Medioevo ha saputo fare degli ebrei, non sappiamo immaginare niente di meglio che tornare all'anno 1000, riprendere le persecuzioni, ricominciare a predicare la guerra santa, affinché gli ebrei siano braccati, spogliati, risospinti nel ghetto, con la rabbia nell'anima, trattati da vinti in mezzo ai vincitori. Davvero intelligenti? Parola mia. E che bella concezione sociale. Ma via. Siamo più di 200 milioni di cattolici. Gli ebrei, se no, sono 5 milioni. Eppure tremiamo, chiamiamo le guardie, ci mettiamo a schiamazzare di terrore, come se orde di predoni si fossero abbattute sul paese. Coraggiosi, molto coraggiosi. Eppure le condizioni della lotta sembrano accettabili. Non potremmo, nel campo degli affari, cercare di essere altrettanto accorti e altrettanto forti. Durante il mese in cui ho frequentato la borsa per tentare di capirci qualcosa, un banchiare cattolico riguardo agli ebrei mi diceva Eh, caro signore, sono più forti di noi. Avranno sempre partita vinta. Se fosse vero, sarebbe veramente umiliante. Ma perché dovrebbe essere vero? Avranno predisposizione, d'accordo. Ma se anche fosse, il lavoro e l'intelligenza possono tutto. Ne conosco di cristiani che sono ebrei della più bell'acqua. Il campo è libero. E se gli ebrei hanno avuto secoli a disposizione per imparare ad amare e a guadagnare il denaro, a noi non resta che seguirli su questa via, vedere di acquisire le loro qualità, di batterli con le loro stesse armi. Ma sì, mio Dio, smettiamola di ingiuriarli inutilmente e conquistare la superiorità per vincerli. Non c'è niente di più semplice in fondo. È la legge della vita. Pensate alla loro soddisfazione orgogliosa di fronte al nostro grido di sconforto. Non essere che un'infima minoranza e scatenare un simile spiegamento di guerra. Ogni mattina gli scagliate i vostri fulmini, suonate disperatamente la dunata come se la città corresse il pericolo di venire presa d'assalto. A sentirvi bisognerebbe ristabilire il ghetto. Avremmo di nuovo la via degli ebrei da sbarrare ogni sera con le catene. Sarebbe veramente piacevole questa quarantena nelle nostre città libere e aperte. Io non mi meraviglio che non si commuovano e continuino a trionfare sui nostri mercati finanziari, poiché l'ingiuria è la frezza lezzendaria che torna indietro per trafiggere l'occhio del cattivo arciere. Continuate, continuate a perseguitarli se volete che continuino a vincere. La persecuzione. Ma davvero siamo ancora a questo? Ci crozoliamo ancora nella bella fantasia che perseguitando qualcuno lo si sopprima? Via, è proprio il contrario. Se una causa si è ingrandita è perché è stata arrossata dal sangue dei martiri. Se ci sono ancora degli ebrei la colpa è nostra. Sarebbero scomparsi, si sarebbero fusi se non li avessimo costretti a difendersi, a raggrupparsi, a intestardirsi nella loro razza. E ancora oggi la loro potenza più reale viene da noi che esagerandola la rendiamo importante. Si finisce per crearlo un pericolo gridando ogni mattina che esiste. A forza di mostrare al popolo uno spauracchio si crea il mostro reale. Non parliamone più. Il giorno in cui l'ebreo sarà un uomo come noi sarà nostro fratello. Quanto alla tattica indicata è assolutamente opposta occorre spalancare le braccia, realizzare socialmente l'uguaglianza riconosciuta dal codice, abbrazzare gli ebrei per assorbirli e confonderli con noi, arricchirci delle loro qualità perché ne hanno, far cessare la guerra delle razze mescolando le razze, incoraggiare i matrimoni, affidare ai figli la cura di riconciliare i padri. Solo così si fa opera d'unità, opera umana e liberatrice. L'antisemismo nei paesi dove ha un'importanza reale non è altro che l'arma di un partito politico il risultato di una grave situazione economica. Ma in Francia, dove non è vero come si vorrebbe farci credere che gli ebrei siano i padroni assoluti del potere e del denaro, l'antisemitismo resta una cosa campata in aria, senza radice alcuna nel popolo. Per creare una pervenza di movimento, che in fondo è soltanto uno schiamazzo, ci è voluto il fanatismo di alcuni cervelli fumosi, in cui si agita un losco cattolicesimo settario, che per un abuso di letteratura perseguita perfino nei Rothschild i discendenti di quel Giuda che ha tradito e crocefisso il suo dio. Aggiungo che il bisogno di fare chiasso, la smania di farsi leggere e di conquistare una notorietà clamorosa sicuramente non sono stati estranei a questa accensione e a questo pubblico discorrere di roghi, le cui fiamme sono per fortuna soltanto decorative. E che smacco penoso! Mesi e mesi di ingiurie, di delazioni, ebrei denunciati ogni giorno come ladri e assassini, cristiani stessi tacciati di essere ebrei al fine di poterli colpire, l'intero mondo ebraico braccato, insultato, condannato, e al fine l'altro che baccano, parole grosse, sfoggio di basse passioni, ma non un atto, non un assembramento, non una testa rotta né un vetro fracassato. Il nostro popolo francese deve essere proprio un popolo buono, saggio, onesto, per non ascoltare appelli quotidiani alla guerra civile, per conservare la ragione in mezzo a queste istigazioni abominevoli, a questa quotidiana richiesta del sangue di un ebreo. Non è più con un prete che il giornale fa colazione ogni mattina, ma con un ebreo il più grasso, il più florido che si possa trovare. Un pasto mediocre quanto l'altro, e perlomeno altrettanto sciocco. E che cosa resta di tutto ciò? Soltanto la bassezza dello sforzo compiuto, il più folle e il più secrabile che si possa compiere. Anche il più inutile, a Dio piacendo, poiché i passanti non si voltano neppure per la strada, trattando gli energumeni alla stregua di carne da chiesa, e per di più rognosi. Una cosa straordinaria è che costoro stentano la pretesa di fare opera indispensabile e giusta, quanto li compiango, poveri diavoli, se sono in buona fede. È un documento spaventoso quello che lasceranno di se stessi, un cumulo di errori, di menzogne, di invidia furibonda, di follia senza limiti, che si ammassano giorno per giorno. Quando un critico vorrà calarsi in questo pantano, indietrezzerà inorridito nel constatare che alla base c'è solo fanatismo religioso e squilibrio dell'intelletto e verranno messi alla berlina della storia come malfattori sociali e i cui crimini sono abortiti proprio in grazia dello stato di ottenebramento in cui sono stati commessi. Perché la cosa che non finisce mai di stupirmi è che un simile ritorno di fanatismo, un tale tentativo di guerra religiosa, si sia potuto produrre nella nostra epoca, nella nostra grande Parigi, tra il nostro bravo popolo. E per di più in tempi di democrazia, di tolleranza universale, mentre si manifesta ovunque un immenso movimento verso l'uguaglianza, la fraternità e la giustizia. C'è in noi la tendenza a distruggere le frontiere, a sognare le comunità dei popoli, a riunire le religioni a congresso perché i sacerdoti di tutti i culti si abbraccino, a sentirci fratelli nel dolore, a volerci salvare tutti dalla miseria di vivere con l'elevare un unico altare alla pietà umana. Ed è un pugno di pazzi, di imbecilli o di furbi che ogni mattina gridano uccidiamo gli ebrei, divoriamo gli ebrei, massacriamo, sterminiamo, ritorniamo ai roghi, alle persecuzioni care ai dragoni di Luigi XIV. Veramente ben scelto il momento. Non potrebbe esserci nulla di più idiota se non ci fosse niente di più abominevole. Che ci sia, tra le mani di qualche ebreo, un doloroso accapparramento della ricchezza è un fatto innegabile. Ma lo stesso accapparramento esiste anche tra alcuni cattolici e alcuni protestanti. Sfruttare le rivolte popolari col metterle al servizio di un fanatismo religioso, gettare soprattutto l'ebreo in pasto alle rivendicazioni dei diseredati con il pretesto di gettarsi il riccone è un socialismo ipocrite menzognero che bisogna denunciare, marchiare d'infamia. Se un giorno la legge del lavoro verrà ricreata in nome della verità e della felicità, potrà ricreare l'umanità intera e poco importerà se sia ebreo o cristiano perché i conti da rendere saranno gli stessi e gli stessi saranno ai nuovi diritti e ai nuovi doveri. Eppure è all'unità umana alla quale dobbiamo tutti insieme sforzarci di credere se vogliamo avere il coraggio di vivere e se nella lotta vogliamo conservare qualche speranza. È un grido ancora incerto ma che a poco a poco si libera, si gonfia, sale da tutti i popoli affamati di verità, di giustizia e di pace. Disarmiamo i nostri odi, amiamoci nelle nostre città, amiamoci al di sopra delle frontiere, lavoriamo a fondere le razze in un'unica famiglia finalmente felice. Ammettiamo pure che occorrano i millenni ma confidiamo almeno nella realizzazione finale dell'amore per cominciare se non altro ad amarsi oggi quel tanto che la miseria dei tempi attuali se lo permetterà e lasciamo e lasciamo i pazzi lasciamo i cattivi tornare alla barbarie e alle caverne quelli che credono di poter fare giustizia a coltellate. Che Gesù dica ai suoi fedeli esasperati che egli ha perdonato agli ebrei e che gli ebrei sono uomini. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.